Ciao ragazzi, ci vediamo al Coro Italico alle Roma Beach Finals, dal 4 al 8 settembre vi aspettiamo! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Gioco a bici volley perché mi dà soddisfazione, mi fa sentire viva e quando sto sulla sabbia riesco ad esprimere tutto quello che ho dentro. Mi sento proprio una guerriera. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!